Sul mercato avrebbero frottato più di 50.000 euro gli oltre 3 kg di droga che gli agenti della squadra mobile di Pescara hanno rinvenuto e sequestrato al termine di un'operazione di polizia compiuta nei giorni scorsi e finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. 2 kg e 754 grammi di eroina, 141 grammi di cocaina, 331 grammi di hashish, 15 spinelli, 8.270 euro in contanti, verosimilmente frutto dell'attività di spaccio e vario materiale utile alla parcellizzazione della droga tra cui un bilancino di precisione. E questo nel dettaglio quanto è stato sequestrato dalla polizia all'interno di un appartamento di edilizia popolare a Zanni dove è stato arrestato in flagranza di reato un 51enne italiano per detenzione spaccio di stupefacenti. L'uomo disoccupato e con precedenti viveva nell'immobile in cui è stato raggiunto pur non essendo aggiudicatario dell'alloggio e neppure abusivo. Per entrare nell'appartamento dove il 51enne si era barricato è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta blindata, come racconta Gianluca Di Frischia, capo della squadra mobile di Pescara. È stata un'operazione condotta dalla squadra mobile nella sera tra venerdì e sabato scorsi che ha portato al recupero di oltre 3 kg per la maggior parte di eroina. Purtroppo il quartiere Zanni non è nuovo allo spaccio di eroina ma sicuramente questo arresto colpisce per la quantità di stupefacente trovato e detenuto da una persona, da un pregiudicato di 51 anni che aveva la disponibilità pur non essendo il segnatario di un alloggio di edilizia popolare del quartiere. Non è stato facile perché anche se le indagini avevano portato a conoscere questa disponibilità, l'uomo ha cercato in tutte le maniere di evitare il controllo di polizia e chiudendosi prima in casa per cui è stato necessario anche l'ausilio dei vigili del fuoco per poter accedere all'immobile, ha cercato di sfarsi dello stupefacente gettandolo dal balcone e poi è stato recuperato prontamente dal personale dell'antidroga che si era appostato. Dopodiché siamo riusciti anche con l'ausilio di unità citonfonica e della polizia a rinvenire il resto, che è il grosso dello stupefacente, che erano altri 2,7 kg di eroina, oltre a quelli che erano stati già trovati, per cui è stato sequestrato tutto questo narcotico, oltre a una somma di più di 8 mila euro in contanti in bancone di vario taglio. Gli approfondimenti investigativi hanno portato anche alla denuncia in stato di libertà di un uomo che è stato suo complice, grazie al quale ha anche tentato di disfarsi del narcotico che era stato occultato. Si tratta di un 49enne residente a Montesilvano, denunciato in concorso col 51enne arrestato e condotto in carcere per aver tentato di occultare la droga nella soffitta dell'edificio, dove poi è stato rinvenuto il grosso dello stupefacente. Le indagini quotidianamente svolte e le operazioni antidroga sono costanti, anche su Zanni avevamo già lavorato e quindi l'attività di indagine aveva portato all'indicazione di questa persona che, ripeto, formalmente non doveva essere lì, ma sapevamo che la realtà era diversa.